Oggi abbiamo portato all'attenzione dei capigruppo in consiglio regionale la vicenda del centro Bellocchio a Giulianova, un centro riservato ai malati di Alzheimer che da anni attende l'attivazione e l'apertura. Finora è stato utilizzato per problemi Covid fino al 31 ottobre dell'anno precedente, ma da mesi l'assessore regionale Veri promette l'apertura, ma nulla accade. 35 lavoratori sono a casa da tempo e soprattutto le famiglie che hanno questo problema all'interno delle loro abitazioni non riescono a superare le difficoltà dell'Alzheimer dei propri familiari. Oggi l'ennesimo ping pong tra la giunta regionale, l'assessore Veri e la ASL di Teramo. Ovviamente c'è una grave responsabilità di questa giunta, del presidente Marsilio, dell'assessore Veri, che da anni non riesce ad attivare questo centro assolutamente necessario per i servizi territoriali alla persona. Abbiamo chiesto tempi e date certe per la riapertura di una RSA importante per l'intera comunità provinciale. Una comunità provinciale che conta solo 77 posti accreditati per le demenze e per i malati di Alzheimer su 949 posti accreditati in tutta la regione. Abbiamo registrato solo ombre, senza alcuna luce. Né la ASL né la regione, nella persona dell'assessore alla sanità Veri, hanno saputo darci una tempistica certa di apertura di quella struttura. Una struttura importante per il territorio, una struttura importante per le decine di lavoratori che lì hanno prestato servizio durante il periodo Covid e che oggi sono disoccupati e che attendono da mesi le promesse fatte in diversi consessi dalla ASL e dalla regione Abruzzo, cioè quelle di un'apertura nell'inverno 22-23, posticipata alla primavera 2023. Oggi lasciamo la conferenza di Capigruppo senza conoscere alcuna data certa e a cosa ancora più grave. La reale volontà di questa regione e dell'ASL di Teramo di aprire o meno quella struttura.